Benvenuti e ben ritrovati, appuntamento con il nostro telegiornale, apriamo con la notizia del giorno che ci porta a vedere questi tre progetti, lo vedete in sovrimpressione degli ACP per il social housing, sono stati ammessi a finanziamento 12 milioni di lire di interventi per i comuni di Casselvetrano, Mazzara del Vallo e Valdelice, vediamo. Si tratta di interventi per oltre 12 milioni di euro. A Casselvetrano si punta alla regolificazione edilizia urbana dell'ex hotel Zeus, bene confiscata la mafia, in via Vittorio Veneto e dell'area esterna, per un importo di 4 milioni 967 mila euro. A Mazzara del Vallo l'intervento riguarderà la scuola 7 giugno 1981 in località Mazzara 2. L'investimento ammonta a 3 milioni 840 mila euro. Il terzo progetto riguarda Valderice e la diminuzione dell'edificio Enopolio di Contrada Crocevie per la realizzazione alloggi e il recupero di un immobile a Bonagia. La spesa prevista è di 3 milioni 525 mila euro. Le risorse arriveranno dalla firma a Roma lo scorso 9 febbraio dell'accordo di programma tra l'assessorato regionale delle infrastrutture e il ministero delle infrastrutture con il quale sono state messe a disposizione nuove risorse per alloggi sociali e servizi abitativi. Mercoledì scorso il presidente dell'Ente, l'avvocato Vincenzo Scontrino e il direttore generale, l'ingegner Eugenio Sardo, sono stati a Palermo per ricevere la comunicazione direttamente dall'assessore regionale Marco Falcone. Per Scontrino si tratta di un segno di grande attenzione nei confronti dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Trapani, soffermandosi sulla preparazione e competenza dei propri dirigenti e funzionari nell'ambito delle progettazioni nel campo del social housing. Scontrino ha quindi tenuto a ringraziare l'assessore Falcone, il direttore generale Belluomo e tutto il personale dell'Ente che ha lavorato alle progettazioni e adesso dovrà anche correre per preparare le relative progettazioni esecutive per ottenere finanziamenti e farlo nel più breve tempo possibile, come è stato chiesto dallo stesso assessorato. E questa era la nostra notizia del giorno, abbiamo tante altre cose da raccontarvi tra poco nella prima edizione. I titoli di questa prima edizione, caro Energia, col diretti in piazza, manifestazione in tutto il paese, a Trapani la protesta davanti alla prefettura, sindaci a fianco degli imprenditori agricoli. La droga sottoterra a Mazzara del Vallo Manette per un pregiudicato nascondeva la droga in uno zaino sottoterra, i carabinieri lo hanno seguito ed arrestato mentre la recuperavano. Infrastrutture idriche arrivano 10 milioni destinati all'ammodernamento di reti idriche e acquedotti in provincia di Trapani. Covid-19 Sicilia prima nei contagi, la curva epidemiologica è in calo ma i medici predicano prudenza, l'isola è ancora prima per numero di nuovi contagi. Pari a reti inviolate, parliamo del Trapani Calcio che non è riuscito a passare, a superare il Renda nel turno infrasettimanale che era valido per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie D. E poi l'approfondimento. Fiction Macari interviene il sindaco di Trapani che ricorda agli sceneggiatori che questa è anche terra di resistenza e l'orda alla mafia. Ne parleremo appunto nell'approfondimento. Intanto vediamo questa protesta di stamattina che ha visto gli imprenditori agricoli trapanesi in piazza davanti la prefettura contro l'aumento delle materie prime. Chiedono l'intervento del governo per calmirare i costi. L'aumento delle materie prime, a cominciare dall'energia e dal gasolio per autotrazione per i mezzi agricoli, pur con accise agevolate. L'aumento dei fertilizzanti e delle sementi rischiano di azzerare i compensi riconosciuti agli agricoltori e agli allevatori per i loro prodotti. Molte imprese agricole, soprattutto le più piccole, non riescono neanche a coprire i costi di produzione con il balzo dei beni energetici che si trasferisce a valanga sui bilanci delle aziende e dei singoli imprenditori agricoli costretti a vendere sotto costo. Una situazione insostenibile, ha spiegato stamattina Antonio Rallo, presidente col diretti Trapani. Una situazione che mette a rischio le forniture alimentari del Paese, con 740.000 imprese agricole che hanno garantito con costanza durante la pandemia la produzione dei beni. Ora queste aziende e questi imprenditori e lavoratori che abbiamo inserito di diritto nella filiera degli eroi della pandemia sono strozzati dalle speculazioni internazionali. Lo si legge sui loro cartelli, ma soprattutto sui loro volti preoccupati e delusi. Chiedono un intervento del governo che possa calmirare gli aumenti, a volte ingiustificati, e perché argini le speculazioni. Oggi la col diretti Trapani, organizzazione di categoria, è scesa in piazza di fronte al palazzo del governo, come hanno fatto le organizzazioni di tutto il Paese, da nord a sud, a cominciare da Roma, in piazza Santi Apostoli, dove la col diretti ha organizzato la grande manifestazione nazionale per salvare l'agroalimentare made in Italy e difendere l'economia, il lavoro e i territori. E c'erano anche i sindaci stamattina, ovviamente accanto agli impeditori agricoli, hanno indossato le loro fasce istituzionali e si sono schierati accanto alla col diretti e non solo. I sindaci del territorio sono consapevoli delle difficoltà legate ai rincari. Ne abbiamo intervistato due di loro, il sindaco di Partanna, Nicola Catania, e quello di Salemi, Domenico Venuti. Aumenti subistati che incidono direttamente e indirettamente anche attraverso il meccanismo inflazionistico che sta prendendo piede e che riguarda tutti. Oggi è una manifestazione che riguarda gli agricoltori, ma dovrebbe riguardare tutti i consumatori, tutte le famiglie, i comuni, che con l'aumento del costo di energia dovranno tagliare i servizi e aumentare le tasse. È una situazione che il governo deve prendere seriamente in considerazione e ci vogliono delle risposte, altrimenti ne va della tenuta sociale del Paese nei prossimi mesi. Non possiamo far finta di nulla, non possiamo assolutamente venire qui a dare un segnale forte, concreto, di sofferenza del territorio, delle attività produttive, ma io devo anche agli stessi enti locali su quello che sta capitando in questo momento rispetto ai rincari dovuti al costo dell'energia, dovute un po' alle cose che tutti quanti conosciamo. Siamo qui stamattina per dare solidarietà e mostrare ovviamente sostegno a tutte le categorie produttive e anche per dare un segnale e rappresentare al prefetto, che poi è lo Stato qui sul territorio, che questa è una condizione che sta mettendo ancora più in ginocchio tutta l'economia della nostra provincia. Ieri c'è stato questa enorme mole di condivisioni su alcuni video che riguardavano un trapanese che prima con la sua auto ha abbattuto i paletti che delimitano Piazza Vittorio Emanuele e poi sulla marina, insomma, sul viale Regine Elena è salito addirittura sul tetto della sua autovettura cantando e ballando sotto la pioggia. I paletti sono stati sostituiti e vediamo un po' quello che è successo. Già stamane l'amministrazione comunale di Trapani, per tramite del personale dell'azienda Trasporti e Mobilità ATM, ha provveduto a ricollocare i paletti e le catene che chiudono Piazza Vittorio Emanuele. Ieri i paletti erano stati divelti da un'auto alla cui guida, in stato di ebrezza, c'era un uomo di circa 30 anni che nel pomeriggio ha seminato il panico in città mettendo in pericolo la propria incolumità e quella degli altri utenti della strada. In Piazza Vittorio Emanuele, nella sua folle corsa, l'uomo ha divelto i paletti sia all'ingresso, come si vede dai pezzi di paraurti per terra, sia all'uscita della piazza. L'uomo è stato denunciato dopo l'intervento di polizia e carabinieri che lo hanno rintracciato in via a Milaglio Staiti, dove si era fermato al centro della carreggiata. È possibile che il Comune di Trapani avvierà un'azione risarcitoria nei confronti dell'uomo al quale verrà richiesto di pagare i danni provocati. Un arresto dei carabinieri a Mazzara del Vallo per detenzione di droga e fini di spaccio in manetta un pregiudicato cui in passato erano anche stati sequestrati i beni. La droga a 18 panetti di hashish la nascondeva sottoterra all'interno di uno zanetto e quando a bordo di una moto da cross sprovvista di targa si è regato a recuperare la sacca i carabinieri che già lo tenevano d'occhio gli sono piombati addosso bloccandolo e arrestandolo tra i rovi. Protagonista della vicenda, Vito Ingrassetto, detto Pucci, 47 anni di Mazzara del Vallo. Le sorprese però non erano finite perché al caso del pusher i militari dell'arma hanno sequestrato un chilo sempre della stessa sostanza stupefacente e denaro contante per un importo complessivo di 8.500 euro. I proventi, secondo gli investigatori, dell'attività di spaccio. L'uomo, già condannato in passato per reati legati al traffico illecito di sostanze stupefacenti, era stato colpito lo scorso mese di luglio da un sequestro di quasi 90.000 euro quando i carabinieri, coordinati dalla procura di Marsala, lo denunciarono per aver fraudolentemente trasferito la proprietà di determinate somme di denaro a terzi, a fine di evitare l'aggressione patrimoniale da parte dello Stato e deludere così le disposizioni di legge in materia di misura di prevenzione patrimoniale. Infatti, all'indagato, già nel 2020 erano stati sequestrati beni immobili e immobili per un valore di circa un milione di euro, tra auto di lusso, ville e attività commerciali riconducibili alla sua attività di spaccio. Adesso Vito Pucci è agli arresti domiciliari con l'obbligo di indossare il braccialetto elettronico. Finisce qui la prima parte del nostro telegiornale, ma c'è ancora altro da raccontarvi tra poco. Adesso parleremo dei soldi che arrivano, circa 10 milioni di euro per le infrastrutture idriche. Poi del Covid-19 la Sicilia continua ad essere ancora prima nei contagi. Infine, lo sport con la finestra sull'incontro di ieri fra il Trapani Calcio e il Rende finito 0-0. Infrastrutture idriche. Arrivano 10 milioni di euro. Il Ministero delle Infrastrutture ha stanziato ai fondi per l'ammodernamento delle reti idriche del Trapanese. Saranno 10 milioni di euro che verranno stanziati per l'ammodernamento delle infrastrutture idriche nel Trapanese. Si tratta di importanti assegnazioni che si collocano all'interno del complessivo stanziamento del Ministero delle Infrastrutture. In particolare, 1 milione 800 mila euro saranno destinati per l'ampliamento, la ristrutturazione e il potenziamento dell'acquedotto comunale di San Vitolo Capo. 5 milioni finanzieranno inoltre un intervento sugli acquedotti esterni di Pantelleria. Oltre 8 milioni di euro andranno invece ai comuni di Mazzara del Ballo, Petrosina e Marsala per l'adduzione delle acque dal sistema Garcia-Montescuro-Ovest, mentre 1 milione e 300 mila euro verranno indirizzati per l'interconnessione dei pozzi in Isci del comune di Trapani al sistema sovrambito Montescuro di Castellammare del Golfo. Il senatore Vincenzo Sant'Angelo ha espresso soddisfazione. Per anni abbiamo assistito ad annunci e proclami, ma soltanto adesso, con il Movimento 5 Stelle al Governo, abbiamo dimostrato che è possibile passare dalle parole ai fatti. Facciamo il punto sulla pandemia. Sono 8.200 i casi accertati, 711 i nuovi positivi. La Sicilia è prima per contagi. Le persone attualmente positive al virus SARS-CoV-2 in provincia di Trapani sono 7.200. Le persone negativizzate o guarite da Covid-19 che hanno potuto lasciare l'isolamento domiciliare sono 1.412. Dall'inizio della pandemia sono 47.524 le persone guarite. I nuovi positivi sono 711. Nessun decesso nelle ultime 24 ore. 549 il totale delle vittime dall'inizio della pandemia con un indice di letalità rispetto al numero dei contagiati dell'1%. L'indice di prevalenza dell'infezione è al 12,70% della popolazione. Dall'inizio della pandemia 55.273 persone sono state infettate dal virus. Stabile l'occupazione ospedaliera. Questa è la situazione dei ricoveri. Due pazienti in terapia intensiva, 16 in terapia semi-intensiva e 86 in degenza ordinaria. Altri 17 pazienti sono in attesa di negativizzazione in residenza sanitaria assistita e Covid hotel. Non è confortante il dato regionale. La Sicilia, pure in un quadro di lieve calo della curva epidemica, è prima per contagi in Italia. Il tasso di positività scende al 15,1%, prima era al 16,7%. Sono 6.766 nuovi casi di Covid-19 registrati a fronte di 44.606 tamponi processati nell'isola. Medici ed epidemiologi predicano prudenza. Nel frattempo va a rilento la campagna vaccinale, soprattutto nella fascia di età 5-11 anni. Vediamo. In Sicilia l'epidemia, pur mostrando segnali di arresto, è ancora in una fase delicata con un significativo impatto sui servizi territoriali e assistenziali, ma con un netto trend in calo di nuove ospedalizzazioni. La valutazione sui dati statistici della settimana dal 9 al 15 febbraio è stata elaborata dal Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico della Regione Siciliana. Per quel che riguarda la campagna vaccinale, nella settimana dal 9 al 15 febbraio, l'89,34% degli over 12 ha ricevuto almeno una dose. Si attesta all'86, 79% la percentuale di over 12 che ha completato il ciclo primario, cioè due vaccinazioni. Il 10,66% del target regionale rimane ancora da vaccinare. Nella fascia d'età 5-11 anni, il 27,62% è vaccinato con una dose e il 17,76, pari a 55.908 bambini, ha completato il ciclo primario. Complessivamente i vaccinati con terza dose sono 2.436.012, pari al 73,4% degli aventi diritto, mentre 899.304 cittadini che possono effettuare la somministrazione booster non lo hanno ancora fatto. In calo le prime dosi. Nella settimana dal 9 al 15 febbraio si è registrata una riduzione del 37,35% delle somministrazioni rispetto alla settimana precedente dal 2 all'8 febbraio. E a Famignana è stata accolta la DAD, ma in questo caso non c'entra nulla il Covid-19. La DAD è stata accolta perché quando c'è mal tempo, ovviamente, gli spostamenti sono impossibili. La Regione quindi ha accolto la richiesta del Comune. L'assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale ha accolto la richiesta avanzata dall'amministrazione comunale di Famignana per l'attivazione della didattica distanza in presenza di condizioni meteo-marine avverse, rivolta a tutti gli studenti residenti nelle Ega di frequentanti le scuole secondarie di secondo grado nel Comune di Trapani. La positiva risposta avviene dopo una lettera inoltrata all'assessore Roberto Lagalla, unitamente alla dirigente dell'ufficio scolastico regionale in provincia di Trapani Tiziana Catenazzo, dall'assessore dell'istruzione Daphne Borgia lo scorso 13 dicembre. In una nota del sindaco Forgione si legge «Ringraziamo l'assessore Lagalla per aver accolto la nostra richiesta. L'insularità non può essere un fattore penalizzante ed impedimento del diritto allo studio delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi che devono necessariamente raggiungere Trapani per andare a scuola». Gli appuntamenti su Telesud questa sera vi invito a non perdere la trasmissione del Politicom che inizia alle 21 perché tratteremo l'argomento di discussione di questi ultimi giorni. Il titolo e il tema della trasmissione è Trapani, coppole e bellezze. Prendendo spunto dalle polemiche social di questi giorni scaturite dall'ultima puntata della fiction Macari in studio come ci saranno il giornalista nonché scrittore Giacomo Pilati, il direttore artistico degli Amici della Musica di Trapani Giovanni De Santis, il presidente della Camera Penale di Trapani l'avvocato Marco Siragusa, il presidente della Film Commission Trapani Film Commission Ivan Ferrandes che è il location manager per Macari e poi avremo lo scrittore autore appunto del best seller dal quale è stata tratta la fiction cioè Gaetano Savatteri, interventi del sindaco di Trapani, della sindaca Dierice, del sindaco di Castelvetrano e ovviamente i vostri come al solito attraverso le due pagine Facebook disponibili. Ci fermiamo intanto, lo sporto tra poco. Pareggio amaro ieri pomeriggio per il Trapani Calcio che è tornato dalla trasferta di Rende con un solo punto, la gara infatti è finita 0 a 0. Finisce Reti Bianchi e rende Trapani nel turno infrasettimanale valevole per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie D. I Granata escono dal Marco Lorenzon con un solo punto, creano diverse occasioni ma non riescono a finalizzare e con quella di oggi sono quattro le gare di fila senza i tre punti. Parte subito forte il Rende che già al terzo minuto si fa avanti con un cross dalla sinistra ma Cultraro blocca tutto. Al quinto si prova Spano ma la sfera viene deviata in angolo. Al dodicesimo il tentativo di Lupo da fuori aria finisce al lato della porta di Mittica. Al venticinquesimo ancora Spano si rende pericoloso in avanti ma Mittica riesce ad agganciare la sfera. I padroni di casa reagiscono con Chiodo che al ventottesimo obbliga Cultraro a mandare la sfera in corner. Al quarantunesimo Furina prova ad accendere la sfida ma Cultraro salva il Trapani. Si va negli spogliatoi sul risultato di 0 a 0. Nella ripresa il Trapani imposta meglio la manovra ma non concretizza le occasioni create. Al sessantunesimo Russo tenta di servire Musso che però viene anticipato da un prudente Mittica. Quattro minuti dopo il tiro di Buffa da fuori aria viene respinto da Mittica. All'ottantaseesimo Bonfiglio prova ad accendere i Granata ma viene fermato dalla difesa del Rende. Nei minuti di recupero è defelice ad avere l'occasione per portare i tre punti a casa ma viene fermato da Piscopo. Finisce così 0 a 0 Trapani che va a quota 24 punti con ancora quattro gare da recuperare. Parliamo di Atletica Leggera. Giuseppe San Martano da oggi è il responsabile nazionale della UISP dei giudici di gare di Atletica Leggera per il prossimo quadriennio. San Martano dal 1987 impegnato nella promozione dello sport in genere era già stato insignito del ruolo di responsabile regionale UISP Sicilia. Grande orgoglio per la UISP di Trapani dichiara il presidente provinciale Marilena Galia. Quindi San Martano sarà impegnato nella formazione dei giudici di gara di Atletica Leggera in vista del prossimo campionato nazionale su pista previsto per il 4 e 5 giugno ad Enna. Parliamo dell'Accademia Trapani che ieri pomeriggio ha giocato il recupero della sedicesima giornata di prima categoria contro il Valderice ed è stata sconfitta. La gara è terminata 2 a 1 per i Neroverdi. Sotto una pioggia torrenziale è arrivata la seconda sconfitta consecutiva per l'Accademia Trapani che nonostante la doppia inferiorità numerica per le espulsioni di Minaudo e Nicola Culcasi era riuscita a pareggiare grazie al rigore siglato al 79esimo Davito Cosenza. Il punteggio si era sbloccato grazie alla firma di Scarcella, abile a insaccare su situazione di calcio d'angolo in mischia. Nel finale all'86esimo il sorpasso definitivo degli ospiti con Barraco che si ritrova tu per tu con Mistretta, battuto per la seconda volta. In pieno recupero vehementi proteste di Parisi e compagni per un gol ingiustamente annullato a Federico Nolfo che aveva insaccato il pallone alle spalle di Volpetti anticipandolo. L'Accademia resta al secondo posto a 27 punti. Domenica la trasferta sul campo del Salemi. Ed ecco in attesa di avervi insomma accanto nella trasmissione di questa sera De Politicum che inizia alle 21 vediamo di capire qual è il sentore, il sentimento del sindaco di Trapani Giacomo Tranchida in merito alle polemiche di queste ore, di questi giorni su una frase della fiction Macari nella seconda puntata andata in onda lunedì sera. Lo hanno costretto il sindaco di Trapani in un certo senso ad intervenire per Giacomo Tranchida. La Sicilia e anche Trapani ovviamente è certamente terra di mafia ma è anche e soprattutto terra di resistenza e di lotta alla mafia. Così risponde a una frase ritenuta poco opportuna all'interno di questa seconda puntata della fiction Macari. Io sono abituato a prendere spunto dai problemi per trovare soluzioni. L'invito al regista di Macari a Savatteri è quello di darci una mano d'aiuto in questa benedetta terra baciata dal sole, bagnata dal sangue degli eroi che hanno combattuto tutte le mafie, a fare in modo tale che nell'immaginario collettivo e nel mondo, quando si parla di Sicilia e si parla anche della provincia di Trapani o della singola città, si parli tanto dei fatti storici che non possono sconfessare il fatto che il fenomeno criminale e mafioso abbia addirittura interessato la politica e le istituzioni, ma soprattutto parlare della terra della resistenza al sistema criminale e mafioso perché diversamente è un ragionamento a senso unico e forviante. Questa è la terra non solo baciata dal sole, ma una terra veramente bellissima perché qui tante persone, tante donne e tanti uomini, per prima di altri, hanno combattuto e si sono posti e frapposti ad una percentuale bassissima di mafiosi. Dunque non disconosciamo questo, non buttiamo sotto il tappeto la polvere del sistema criminale mafioso che ha invaso storicamente le terre siciliane da un lato, dall'altro però utilizziamo anche, come si chiama quell'affare per tirare la polvere, l'aspirapolvere da ciò e l'aspirapolvere da ciò è la capacità di resistenza di tante donne, di tanti uomini, di magistrati, giornalisti, sindacalisti, di politici, di cittadini normali. Ho tirato per ultimo l'esempio di Margherita Asta che è un monumento, figlia, sorella di vittime di mafia, non si rassegna a piegare solo nel suo cuore il dolore per quello che è accaduto, ma inizia un impegno civile nei confronti del sistema criminale mafioso. Ecco, mi piacerebbe che Macari, il regista, in una prossima fiction comincino a pensare e a raccontare questa storia di una terra che vuole riscatto anche dalla mafia. In questa seconda edizione, per chi si fosse messo alla visione del Tg solo adesso, vi ripropongo un paio di servizi, quello sui finanziamenti che sono stati ammessi per un totale di 12 milioni di euro per interventi nei comuni di Castelvetrano, Mazzaradevallo e Valderice per quanto riguarda il social housing, quindi nuovi alloggi per i cittadini di questi tre comuni e poi la protesta di stamattina della Col di Retti. Intanto vediamo il servizio sugli ACP. Si tratta di interventi per oltre 12 milioni di euro. A Castelvetrano si punta la regolificazione edilizia urbana dell'ex Hotel Zeus, bene confiscata la mafia, in via Vittorio Veneto e dell'area esterna, per un importo di 4.967.000 euro. A Mazzaradevallo l'intervento riguarderà la scuola 7 giugno 1981 in località Mazzaradevallo. L'investimento ammonta 3.840.000 euro. Il terzo progetto riguarda Valderice e la demolizione dell'edificio Enopolio di Contrada Crocevie per la realizzazione alloggi e il recupero di un immobile a Bonagia. La spesa prevista è di 3.525.000 euro. Le risorse arriveranno dalla firma a Roma lo scorso 9 febbraio dell'accordo di programma tra l'assessorato regionale delle infrastrutture e il ministero delle infrastrutture con il quale sono state messe a disposizione nuove risorse per alloggi sociali e servizi abitativi. Mercoledì scorso il presidente dell'ENT, l'avvocato Vincenzo Scontrino e il direttore generale e l'ingegner Eugenio Sardo sono stati a Palermo per ricevere la comunicazione direttamente dall'assessore regionale Marco Falcone. Per Scontrino si tratta di un segno di grande attenzione nei confronti dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Trapani, soffermandosi sulla preparazione e competenza dei propri dirigenti e funzionari nell'ambito delle progettazioni nel campo del social housing. Scontrino ha quindi tenuto a ringraziare l'assessore Falcone, il direttore generale Belluomo e tutto il personale dell'ENTE che ha lavorato alle progettazioni, e adesso dovrà anche correre per preparare le relative progettazioni esecutive per ottenere finanziamenti e farlo nel più breve tempo possibile, come è stato chiesto dallo stesso assessorato. E adesso andiamo a vedere questa protesta di stamattina davanti alla Prefettura Trapani del comparto legato al mondo dell'agricoltura. L'aumento delle materie prime, a cominciare dall'energia e dal gasolio per autotrazione per i mezzi agricoli, pur con accise agevolate. L'aumento dei fertilizzanti e delle sementi rischiano di azzerare i compensi riconosciuti agli agricoltori e agli allevatori per i loro prodotti. Molte imprese agricole, soprattutto le più piccole, non riescono neanche a coprire i costi di produzione con il balzo dei beni energetici che si trasferisce a Valanga sui bilanci delle aziende e dei singoli imprenditori agricoli costretti a vendere sotto costo. Una situazione insostenibile, ha spiegato stamattina Antonio Rallo, presidente col diretti Trapani. Una situazione che mette a rischio le forniture alimentari del Paese, con 740 mila imprese agricole che hanno garantito con costanza durante la pandemia la produzione dei beni. Ora queste aziende e questi imprenditori e lavoratori che abbiamo inserito di diritto nella filiera degli eroi della pandemia sono strozzati dalle speculazioni internazionali. Lo si legge sui loro cartelli, ma soprattutto sui loro volti preoccupati e delusi. Chiedono un intervento del Governo che possa calmirare gli aumenti, a volte ingiustificati, e perché argini le speculazioni. Oggi la col diretti Trapani, organizzazione di categoria, è scesa in piazza di fronte al Palazzo del Governo, come hanno fatto le organizzazioni di tutto il Paese, da nord a sud, a cominciare da Roma, in piazza Santi Apostoli, dove la col diretti ha organizzato la grande manifestazione nazionale per salvare l'agroalimentare made in Italy e difendere l'economia, il lavoro e i territori. Aumenti sui stati che incidono direttamente e indirettamente anche attraverso il meccanismo inflazionistico che sta prendendo piede e che riguarda tutti. Oggi è una manifestazione che riguarda gli agricoltori, ma dovrebbe riguardare tutti i consumatori, tutte le famiglie, i comuni, che con l'aumento del costo di energia dovranno tagliare i servizi o aumentare le tasse. È una situazione che il Governo deve prendere seriamente in considerazione e ci vogliono delle risposte, altrimenti ne va della tenuta sociale del Paese nei prossimi mesi. Non possiamo far finta di nulla, non possiamo assolutamente venire qui a dare un segnale forte e concreto di sofferenza del territorio, delle attività produttive, ma io devo anche degli stessi enti locali su quello che sta capitando in questo momento rispetto ai rincari dovuti al costo dell'energia, dovute un po' alle cose che tutti quanti conosciamo. Siamo qui stamattina per dare solidarietà e mostrare sostegno a tutte le categorie produttive, anche per dare un segnale e rappresentare al Prefetto, che poi è lo Stato qui sul territorio, che questa è una condizione che sta mettendo ancora più in ginocchio tutta l'economia della nostra provincia.